Il signo porta l'alto nel muore, qua è lì Tagliare il superfluo in tempo di crisi, ma non servizi essenziali come quelli dell'assistenza ad anziani e disabili. Basta, taglia la spesa sociale. Lancia un duro monito il cardinale Crescenzio Sepe durante la sua visita alla residenza per anziani Oasi San Francesco di Castellammare di Stabbia. Un appello che aveva rivolto pure ad alcuni rappresentanti della regione nei giorni scorsi. Il porporato è arrivato nella struttura che affaccia sul Golfo di Napoli su invito degli stessi ospiti, i quali qualche tempo fa avevano scritto una lettera all'Arcivescovo di Napoli. Un momento di festa dunque, ma anche di grande sensibilizzazione. Ha chiesto maggiore attenzione alle fasce reboli? Assolutamente. Intanto a incominciare da quello che è il rispetto di ogni persona. Ogni persona. Soprattutto poi quando questa persona è necessitata perché malata, perché vecchia, perché anziana. Allora l'attenzione di chi per istituzione deve salvaguardare questa dignità è ancora maggiore. Cioè il rispetto della persona deve crescere in proporzione della disabilità delle persone stesse. Dove non arrivano le istituzioni a volte arriva la Chiesa. Noi agiamo in nome della carità di Cristo. Tante volte purtroppo dobbiamo constatare che siamo costretti a fare quello che non sempre gli altri riescono a fare. Grande entusiasmo tra gli ospiti dell'Oasi e dei suoi dirigenti. Il direttore Boffardi ha apprezzato il richiamo del Cardinale alle istituzioni pubbliche. In questo momento così difficile che voi sapete, in questo momento in cui della Sanità Campania che sta vivendo una crisi assoluta mettendoci in difficoltà, la sua presenza ci dà forza e ci dà la possibilità di lottare con fede e speranza affinché possa unirsi la sua autorevole personalità in quanto lui ministro della Chiesa associarsi alla nostra voce e far sì da portare questo messaggio in Regione Campania ai nostri politici affinché non si possa pensare che la sanità possa essere solo un taglio. C'è sempre il problema finanziario, economico più che altro, che noi ASL abbiamo affrontato da un po' di tempo e per fortuna da un po' di tempo riusciamo a star dietro con ritardo di due massimo tre mesi nei pagamenti ma purtroppo l'ASL per legge paga il 50% di quando viene fatturato dal centro. L'altro 50% è a carico dei comuni e mi dicono che ci sono dei forti ritardi. Si è dimostrata sensibilissima, io lo conoscevo televisivamente, oggi averlo qua è stato veramente un onore e una commozione. Ieri la sua segreteria ci ha avvisato, in 24 ore ci siamo organizzati per questo piccolo piccolo evento. È stato un passaggio ma molto forte.